Santa Cruz per il 2019 due modelli nuovi da XC la Highball che è una fronte e la Blur che è una full da 100 mm anteriori entrambe ovviamente la Blur ne presenta cento anche il posteriore con lo schermo VPP che è classico di tutte le Santa e telaio in carbonio in due versioni C o CC dove il CC è quello più pregiato e leggero e vari montaggi tutti con l'NX Eagle dal 2019 e varie sospensioni in base al montaggio l'altra particolarità di Santa sono le water reserve in carbonio che uniche al mondo offrono una garanzia vita anche per l'impatto quindi anche in caso di rottura accidentale al di fuori di quello che è la normale garanzia poi ovviamente Santa ha tutta una gamma di enduro il mountain dal 27 al 29 ci sono il 9 bronzo il 9 50 10 c'è tutta una gamma di bici complete il modello qui descritto è la Santa Cruz Blair modello in versione con il telaio CC vuol dire il telaio più leggero in allestimento X01 con ruote reserve prezzo di listino al pubblico 7999 modello front di Santa Cruz si chiama eyeball venduta in due colorazioni la versione qui esposta è il top di gamma versione XX1 con ruote reserve tutta la componentistica manubrio reggisella carbonio di Santa Cruz prezzo al pubblico di 8.299 grazie a tutti